Il lupolo è una tipica pianta a fioritura scalare e nello stesso momento abbiamo fiori che sono ancora in bocciolo, fiori che stanno sviluppandosi e fiori magari già maturi che hanno già fatto il seme all'interno del fiore. Questi che vediamo sono gli abbozzi dei coni che sono appunto quelli che verranno utilizzati per aromatizzare la birra. I coni già si stanno sviluppando, si vedono strutture un po' più complesse, assomigliano vagamente ai capperi se vogliamo e si svilupperanno per dare origine al vero e proprio cono. Questa sarà la struttura che verrà utilizzata per aromatizzare la birra. Ovviamente verde si sta formando e darà origine anche a tutta una serie di composti. Questo è un cono già più formato, già comincia a seccarsi. Mano a mano che si sviluppa si seccherà e si produrrà sempre più lupolina che è questa specie di polline color giallastro.